Vittorino, ormai sei giovane, ma quasi sei tra i più esperti, almeno a giudicare la difesa di Avellino. Ma tra i più esperti non credo, dai. Sono soltanto due partite che comunque stiamo facendo bene. Io sono contento per questo momento, per le mie prestazioni, ma soprattutto per aver vinto queste due partite, che erano fondamentali per ritirarci un po' dalle ultime prestazioni. Com'è stata la partita di Avellino? È stata una partita dura, perché comunque sapevamo che loro l'avrebbero messa sulla fisicità, lanciando molti palloni alti e quindi approfittando delle spizzate e della qualità di Castaldo davanti. Siamo stati bene, abbiamo lavato bene di reparto e quindi siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Serviva a vincere, sia per la classifica, perché comunque è sempre più corta. Adesso arriva il duro comunque, perché abbiamo queste partite che sono tutti scontri diretti, già a partire da Cesena, che sarà sicuramente una partita molto difficile. E quindi abbiamo fatto bene, siamo stati bravi a vincerle, ma adesso non dobbiamo mollare e dobbiamo continuare su questa strada. Altre volte hai glissato, però ti rifacciamo questa domanda. È possibile che in Lega però non hai trovato un minuto? Come mai? Si diceva perché fossi troppo spesso convocato e non lavoravi troppo con il gruppo. Questo non penso proprio sia questo il problema, anche perché veniamo convocato in nazionale, non da qualche altra parte. E quindi non lo so, il problema, ve lo ripeto, non lo so qual è stato, magari il mister non si fidava, però va benissimo e così adesso sono molto contento di essere tornato e quindi mi fa molto piacere comunque anche per queste ultime prestazioni. Senti, probabile, la tua conferma anche per la prossima partita, affronterai Ciano o Ragusa, insomma sono giocatori molto forti. Sì, devo iniziarmi a preparare mentalmente da subito perché sono sicuramente dei giocatori molto forti. Queste ultime partite che affronteremo ci saranno sempre giocatori forti in attacco, quindi bisogna fare veramente il massimo e lavorare duro.